Ciao, sono Chris Evans e di solito la faccio in questo vaso. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho letto, però insomma devo fare pratica, quindi arrangiatevi. Cominciamo. Cos'hai provato quando hai indossato il costume di Capitan America? Non è stata un'emozione particolare, l'ultima cosa che ricordo è quel parrucchino, assomigliava a questo cane, insomma, ma è quando ti pagano. Sei disposto a fare qualsiasi cosa, io ho fatto un sacco di cose per i soldi, ho giocato, ho ballato, mi sono fatto inculare, dettagli. Nel primo Avengers ti è piaciuto di più il costume o lo scudo? Beh, insomma lo scudo, il costume sapeva un po' di puffo, però insomma ritorniamo sempre lì su quell'argomento, quando ti pagano, insomma sei disposto a fare di tutto. È così, aderente! Sono considerato l'uomo più sexy del pianeta Terra. Beh, non lo so se sexy è la parola giusta, forse è un po' troppo esagerato, non lo so. Io sono una persona molto umile, anche perché sono davvero responsabile di essere sexy. Quale emoticon useresti per descrivere il tuo pene? Questo qui. Hai davvero cagato in quel barattolo? Sì, quante volte lo devo dire, è tutti i giorni. E questo è tutto, alla prossima!